Nella serata di sabato sera si è consumata una tragedia, ai Murazzi del Po una persona è annegata, ai suoi cari le nostre condoglianze. Ci tengo però davvero a ringraziare Rasel, questo nostro concittadino di origini bengalesi che quando ha visto questa persona in difficoltà non ha indugiato, si è buttato e ha provato a salvarlo. Non ci è riuscito, ma questo gesto di grande generosità è davvero un bellissimo esempio e credo davvero che sia giusto da parte nostra come città a ringraziarlo. Lo incontrerò a Palazzo Civico e proporrò al Consiglio Comunale di dare a lui un riconoscimento ufficiale di Torino. Grazie Rasel davvero per questo bellissimo gesto.